Sono 25 i giri, riguardo a punteggio ogni 5 giri, impeggio classico 5 3 2 1, giro a vuoto E' in perfettissimo orario questa sera, non stiamo sgarrando di un minuto. Siamo giustissimi, siamo con gli esordienti, partenza valida. Il gruppo che rimane sostanzialmente a ranghi compatri. Capara, siamo nel mese del primo sprint a punteggio. Prevolata. Prevolata. Urlata. Urlata. 77, Davide perde il giro. Siamo alla seconda campana, secondo sprint a punteggio. Al termine di questa prova, ricordo... 31, 67, 33, 16. 31, Dalbo Daniele, 67. Atleta 36, collo del Piero perde il giro. 36, un giro in meno. Non scendere dalla pista, perso il secondo giro. Ali Spiro. Il passaggio a Piloni. 7, 26,are ha il a cuore. Tag mountain. Tampi doppio, avuta. L'all свadita del Piero... 3, 80, 60, l'allשה più grande. Un biquillo, un ru З consumption. Campana, prossimo passaggio, tetto sprint, Sebrei con la maglia acqua e aggrossa della Sicilese, la catena, Bepi, c'è la catena. Elia. Seguono a punti 5, sta Fusselia, Marina, Andrea, Dalbo, Daniele e Bessega, Davide. Gara molto equilibrata. Campana, tra l'altro aveva disfrutato la volata, si è reclassificato al secondo posto nella terza volata, dopo di che è avuto un incidente meccanico. Volata. 33, 78, 31, 67. Atleta 15, Polesio Alessio, secondo giro, scendere dalla pista. Atleta 15, scendere di pista, secondo giro. Tita guida la Coulson numero 31, Dalbo, Daniele. Ultimo giro. Gli allievi iniziano a prepararsi per la velocità prolungata. con l'atleta numero 31, Dalbo, Daniele. Porta a casa, 5 punti. 31, 28, 16, 6. 31, Dalbo, Daniele. 28, Bessega, Davide. 16, Basso, Davide. E 6, Piatusi, Chele. E siamo con gli esotitici, con lo scratch, 10 giri. Atleta, giro a vuoto come vuoto. E 6, Piatusi, Chele. La classifica finale delle giovanissimi vince, Marti, Maria Vittorio, punti 7. Secondo, Menegaldo, Matteo, punti 10. Terzo, Damusso, Alex, sempre a punti 10. Allievi dorsali dispari per la prova di qualificazione dello scratch. Sono i 23, passano i 12. Gruppo che si mantiene a ranghi coppati. used하던 Medispeed. Grazie mille. con il play da numero 67 Maria Andrea del Veloclub La Tisana a guidare la gara quando mancano due giri a termine Giro Campana probabilmente cambio in testa alla competizione con il Doni con Chendosi Michele a guidare sulle due maglie della facilese che in questo momento scattano all'interno volata a 4 iniziamo sull'entilinio finale e va a vincere Marina Andrea del Veloclub La Tisana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti